...artiste come lei, perché insieme si complementano e fanno cose bellissime. A te Letizia. Grazie a tutti, sono un grande grande di stare qua e di parlare di Anna. Anna Bebè è stata una grande amica, ci siamo voluti bene, non dò subito dell'ordinabilità, ma dopo un poco ci siamo conosciute, ci siamo stimate, ci siamo voluti bene, siamo diventate amiche, amiche per la pelle e devo parlare di lei e della sua bondà, già ne abbiamo parlato, invece voglio parlare della sua positività e anche delle sue paure e soprattutto del suo amore per l'arte e anche delle sue paure, perché lei le deveva, insomma, i limiti, perché anche in quanto ha scritto questo libro, l'impoterabile, con tante novelle, in questo libro ci sono, diciamo, degli aspetti della vita che noi non ci aspettiamo, che capitano di un'improvvisa, che possono essere belle, ma possono essere anche molto difficili, lei ha affrontato la sua amantia con un grande coraggio e questo coraggio è venuto fuori anche e soprattutto dalle sue paure, come diceva Giovanni Falcone, il coraggio si dimostra nei fatti di tutti i giorni, nella quotidianità e nel capire le tue paure, nel sapere affrontare con positività, questa era Anna, Anna con un sorriso nascondeva le sue paure, i suoi disagi, che erano tanti, e lei me ne ha fatto una confidenza e io su questo l'era meglio ammirata e per me sta qua a fianco a me. Vi voglio leggere le varie dediche che lei ha fatto a me, perché mi voleva bene e io le sono ammirate per l'affetto che ha provato per me e io per lei. Quindi, voglio leggere questa dedica che è l'ultima, abbiamo presentato il libro, l'ora qua, Anemoni da L'Orio. Io ho illustrato parecchi i suoi libri, lei ha partecipato a parecchi i libri che io ho scritto, abbiamo scritto tutti insieme sui sociali, e quindi lei teneva questa particolare sensibilità. E questa sua chiamo d'edica che mi ha fatto, devo mettere la vecchia, la vecchia è buono. Allora, dopo proprio in quella serie che lei mi ha regalato il libro, Un semplice modo per ringraziarti del tuo affetto, la stima e la collaborazione e per dirti che ti voglio bene. Anna Partirono, questa è Anna Partirono, mi voleva bene e io volevo bene a lei. E me la dedica pure di quando, sul libro L'Imponerabile, lei pure scrive un pensiero, quindi sono le sue parole. E quindi io vorrei trasmettere a voi questa sua identità, che metteva nelle dediche, veramente nelle dediche faceva una affetta e così gentile. Un percorso difficile, un mondo che ci attrae e ci incuriosisce a un tempo, lasciandoci comunque sospesi e intimamente sconvolti, ma che essendo vero va accettato, pertanto, no, va accettato purtroppo così com'è, con affetto e un grande, è bene, è Anna Partirono. E in questi imponderabili c'era anche la sua malattia, che lei, ecco, il suo coraggio, che lei sapeva che doveva comune, non è bello che lo sapeva, lo sapeva perfettamente, però lei a se stesse e agli altri per non fargli una barcaia, negava questa cosa e dice che io sto bene, tra poco guarirò, farò un intervento, quindi affrontava la vita con quel coraggio, con quella positività e anche per difendere i suoi affetti più cari, i figli, soprattutto, i nipoti, i nipoti, e soprattutto anche le amicizie delle, quelle che lei apprezzava tantissimo e che anche io ho apprezzato lei nel suo modo di vedere e di fare. E voglio leggere, l'ultima cosa e poi ritaccio, questa poesia che ha dedicato a me, dedicato all'arte in generale, perché lei amava la cultura, l'arte, non solo la cultura, ma la poesia, la musica, la danza, è venuta a tutte le mie manifestazioni, le mie vecchie, è andato solo il tributo e non era invidiosa di niente e di nessuno, ha fatto il suo percorso limpido e su questo ci trovavamo tanto, perché io ammiravo lei con tutti i suoi limiti e lei ammirava me con tutti i miei limiti, perché ognuno di noi non è perfetto, per a questo integrarsi ci ha dato la forza di combattere anche le cose difficili che ognuno di noi ha affrontato e deve continuare a affrontare. La poesia è arte, è la dedicata a me, è la dedicata all'arte. Ti trovo tra le pene di un ricamo, nei petali di un fiore, a primavera, nei disegni innocenti di un bambino, nella pietra scolpita di figure, nei tempi diroccati di un passato che testimonia civiltà per tutte, o nelle indenze delle di pittori, dove ti sciogli in luci e in colori, suggerendo pensieri e riflessioni. Quali voci di messaggi nuove, alte e eterno afflato di un'unica bellezza che avvolge il mondo di magico splendore. Anna Di Pagabello, se sei sempre benvenuta.